Il Vescovo nel discorso in un uomo ha citato il padre Gianfranco Chibi, che aveva scritto sul quaderno dove appuntava le sante messe. La mia messa, Signore, fa che io non sia uno che recita, ma uno che agisce, che vive mezz'ora di vita vissuta in te. La mia messa in te, con te, per me, i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, la tua volontà e il tuo amore, siano i miei partecipando all'altare. Voglio essere te, essere, essere, rappresentarti non mi basta, voglio essere te. Padre, chi ti voleva essere, non apparire, sia questo anche il nostro impegno nel seguire. Tutti attimi. Preghiera dell'allievo di Valerio. O Maria, Madre e Regina della Parcia, noi, allievi della Scuola di Piterbo, eleviamo a te la nostra preghiera. Ti ringraziamo per la guida che ci hai donato, per il nostro Comandante che mai dimenticheremo. Ci ha resi forti nello spirito e nel cuore, nell'amore per la nostra partia e nella fede verso il Signore. Ti ringraziamo, caro Comandante, per aver saputo far crescere i segni della mano. Siamo diventati uomini e soldati, nell'impegno dei giovani anni, con l'esempio e le tue parole. Ora ci sorridi dall'alto, non solo più della tua statura, ma dal cielo. Ti preghiamo di benedire noi, i nostri cari e i giovani che sullo stesso sentiero, da te, tracciato, a Piterbo, proseguono il nostro cammino, ut, arde, 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 viva Padre Chitti e tutti noi. Riposto.